Ciao e benvenuti nel nuovo episodio di Kappa's Armory. Se sei nuovo, questa è una serie in cui mostro gli sette armori che uso. In questo episodio prendiamo un guardo a due sette armori per l'impact di Vivern. Due sette attivano le stelle stelle, ma hanno un giro diverso e necessitano diversi due due, quindi se non puoi fare il primo set, non preoccupate, il secondo è più facile da fare. Un breve noto prima di iniziare, se vuoi vedere più, o se vuoi supportare il canale, non dimenticate di togliere il butto di subscribe, e se non vuoi perdere qualche video, ricordate di togliere la bellissima o di seguirmi sui social media. Comenze e like sono anche apprezzati. Il primo set che vi mostro è quello che adesso uso, perché preferisco anche la forma che si sembra. Anche senza due due, questo set attivano alcune strade molto buone, quindi non preoccupatevi molto sulla qualità delle due due due. Il set ha due slot di lvl 3 e un totale di 10 slot di lvl 1 che puoi usare. Per le decorazioni, la più importante che hai bisogno è l'elemento di jewel, per attivare il boost non elementale. Ora vediamo la parte strade, quelli 10 slot di lvl 1. Le 6 jewels espere che ho bisogno di attivare lvl 6 critica, non sono così difficili da prendere come si può pensare. La piazza reale sono i tre attacchi che hai bisogno, da che hai solo uno al principio del high rank. Con un aumento di attacchi e un aumento di affinità sul tuo senso, questa combinazione di skills dovrebbe dare il risultato più alto di amici che questo senso può ottenere. Ma se non sei preoccupato con il risultato di amici, mi raccomanderei personalmente usando un aumento di affinità e un aumento di alta regenza, perché il aumento di alta regenza aiuta a mitigare il dame che hai ottenuto dal attacco di amici. Perfettamente, a meno che stiamo a rinforzando, ho anche scelto la critica l'eye down a lvl 3 per aggiungere lvl 3 lvl 3 al set. Non come negli ultimi game, in Monster Hunter World, la skill health boost stacca con lvl 3 che ricevete dalla cantea. Se non hai le 4 attacchi e vuoi usare questo set, per esempio, per deluk, puoi usare 4 jewel expert per attivare il critico lvl 4, 3 jewel vitalità per attivare lvl 3 e questi faranno che te lo usano con 3 lvl 1 sloti che puoi usare per le skills situazioni situazione, come Fluvia Resist o Divine Protection. Il secondo set che vi mostro ha strumenti inizialmente diversi iniziali, perdono un livello di Exploito di Weakness, ma ottengono l'attack boost di level 2. Questo significa che per questo set dovrai anche bisogno di Tenderizer Jewel per attivare l'Exploito di Weakness Level 3. Quando compa quell'è precedente, questo solo ha due 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 due. Locati restanti inizialmente possono essere usati per attivare l'Aca ice level 6 o lL3 plus lB3, o qualsiasi altri skill che puoi chiedere. Allora, questo è tutto per gli sette armature. Ora lascerò un paio di demonstrazioni di damage. L'unico buff che non mi vuoi usare, ma che ho, è l'attacco enorme dalla cantea. Ho spero che questo video fosse aiutato e vi vediamo nel prossimo episodio! Noi! Noi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.